Come ogni anno, da quattro anni a questa parte, realizziamo una vera e propria collezione di uova di Pasqua che si affiancano alla linea commerciale. La collezione negli altri anni si è sempre ispirata a grandi artisti del Novecento, dalle avanguardie alla pop art. Abbiamo sempre omaggiato i grandi maestri, soprattutto prendendo una parte delle loro pitture, delle loro opere e riportandole sul burro di cacao che riveste l'uovo di cioccolato fondente. Le uova sono tutte rivestite da burro di cacao, quindi la parte nobile del cioccolato, dove si aggiunge a sua volta o cioccolato o una piccolissima parte di colorante per dare le sfumature che desideriamo. La forma, sicuramente non è quella dell'uovo di Pasqua classico, non è nella nostra linea l'uovo classico incartato. Quindi le forme partiamo da un'ispirazione che ricorda un po' il pubismo, Picasso con l'uovo pubista e un uovo fatto di fasce applicate una all'altra che richiamano un po' il futurismo, quindi l'uovo in movimento quest'anno. Gli altri forme sono tutte comunque di nostra, un'ispirazione nostra, quindi non ci siamo dati un tema, abbiamo iniziato a lavorare la materia prima, lasciandoci trasportare da quello che poi ci veniva in mente, dalla nostra fantasia. Nasce così la collezione di quest'anno, che per la prima volta è la nostra collezione con la nostra impronta artistica sul cioccolato. Ogni pezzo è diverso, ogni pezzo ci piace perché a modo suo, dalla linea più semplice a quelli molto più complessi, sono tutti i pezzi molto molto belli. Sicuramente c'è chi ama linee più pulite, più lineari, e altri che amano magari uno stile un pochino più complesso, quindi l'uovo pubista, l'uovo in movimento accorgono un po' il gusto sulle forme un po' più complesse.